Le guide ambientali escursionistiche danno il loro contributo per la tutela e la salvaguardia della biodiversità negli ambienti naturali attraverso la loro attività professionale di accompagnatori delle persone, dei turisti e dei visitatori in un ambiente naturale. L'approccio che le guide hanno è un approccio di tipo scientifico e quindi le guide con un continuo aggiornamento, con un continuo approfondimento delle conoscenze naturalistiche, accompagnano le persone in vari ambienti naturali, dalle dune costiere alle aree umide alle zone di collina fino ad arrivare all'alta montagna, con consapevolezza e con rispetto di tutte le fasi biologiche, tenendo conto appunto delle fasi biologiche degli animali che abitano questi habitat e anche delle varie stagioni e quindi contribuiscono alla conoscenza del territorio e al rispetto e alla difesa della biodiversità, trasmettendo ai loro accompagnati queste informazioni, soprattutto la coscienza e la consapevolezza della necessità di un approccio soft, senza mezzi motorizzati, con un atteggiamento di grande rispetto verso la natura.